Bentornati su MyFootballGersey. Torniamo a vedere le maglie delle squadre di calcio che hanno partecipato agli ultimi mondiali. Questa è la seconda maglia del Senegal in versione player, basata sul design onnipresente di Puma per le maglie da trasferta della Coppa del Mondo 2022. La maglia da trasferta Senegal 2022 è principalmente verde, con una cornice del marchio sul davanti e una striscia verde scuro centrale. Il logo Puma centralmente sul petto e su ogni manica è giallo, proprio come la parte inferiore della cornice. Il girocollo è rosso con ping-ping verde e giallo. La bandiera del Senegal, il logo della Federazione Calcistica Senegalese e la scritta Les Lions sono posizionati centralmente all'interno di un riquadro rosso sul davanti sotto il logo Puma. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Che bella! Questo abbinamento colori mi piace tanto. Non mi piace tanto la casellina vuota, ma purtroppo non sono riuscito a stampare il numero. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, come vi dicevo fatta molto bene e tra l'altro il tessuto della versione player secondo me è strepitoso. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso per una maglia che arriva anche molto velocemente. Questa è arrivata in 25 giorni. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi cosa aspettate? Andate sul sito. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti!